Osserviamo il prospetto orientale di San Giovanni degli Eremiti, edificio iconico della Palermo Normanna. Il sole pomeridiano illumina i dettagli architettonici, mentre due figure in abiti borghesi si aggirano intorno alla chiesa. Il dipinto ci mostra l'esterno della chiesa dopo le demolizioni degli edifici circostanti del 1876 e le cupole del colore precedente ai restauri dell'architetto Patricolo del 1882.